Simone Marini, palleggiatore della Gerardi Svi, Città di Castello, oggi in questo derby di Coppa Italia. Grande cuore, grande capacità di Castello di recuperare anche dalle difficili situazioni. Non ce l'avete fatta, ma resta comunque una buona prestazione. Sì, c'è il rammarico di non aver portato a casa il risultato. Non abbiamo giocato male, non possiamo dire. Bastia-Perugia è una grandissima squadra, sono dei grandissimi campioni. La partita si è decisa su pochi punti e noi abbiamo messo tutto quello che avevamo in campo. Quindi non abbiamo nessun rammarico per come è andata sì, ma per come ci siamo comportati in campo no. Forse qualcosina avete pagato nei set che avete perso in ricezione. La vostra ricezione non ti ha aiutato più di tanto nel poter gestire al meglio gli schemi? Beh, no, questo sì. In certi frangenti ci è mancato forse un po' in ricezione, ma loro sono dei grandi battitori. Loro hanno, tra Vujevic, Tamburo, Petric, battitori di primo ordine. Oltretutto venivamo da una trasferta lunghissima come Castellana, un'altra battaglia. Quindi purtroppo è andata male. Pensiamo a domenica, a fare bene, a fare il risultato. E una partita per volta. C'è solo il rammarico di non andare alla Final Four perché ci tenevamo. In effetti, se lo meritava Città di Castello, questo è un periodo molto positivo. Sei infortunato Vicentin, però tu ci sei. Sei pronto a dare una mano e il grande pubblico di Città di Castello, che anche qui oggi al Palevangelisti si è fatto sentire, non lo deluderai? No, assolutamente no. Non deluderò sicuramente il pubblico e spero soprattutto di non deludere la società, i compagni e l'allenatore per il contributo che potrò dare nel corso. E che devo dire? È tutto, la Pianeta Volley.